Ciao a tutti, sono Marco Gezza, l'ambassador di Bim Santory per l'Italia. Oggi parleremo di Lafroig Select, un whisky no age statement, quindi non è specificato l'anno di invecchiamento, ma sappiamo che dalla distilleria Lafroig escono solo liquidi che hanno compiuto almeno 7 anni di invecchiamento. Select è dato dall'unione di diversi malti di casa Lafroig, infatti è dato dall'unione di Lafroig Quarter Cask, Peaks Cask e Sherry Cask e il cuore, quindi l'anima finale di questo whisky è data da Lafroig 10 anni. È un whisky che sicuramente esprime queste note torbate, tipiche dei whisky di Ayla e queste note, se vogliamo, anche medicinali, queste note iodate, ma è un whisky che si presta molto bene come whisky entry level per chi si sta approcciando al mondo della torba. Infatti Lafroig Select nella gamma di Lafroig è quello meno torbato e quindi è un whisky che ci può aprire il palato verso questo nuovo mondo fumoso.